Buongiorno, sono molto lieto di questo invito, vi ringrazio, è un vero piacere per me presentare questi studi. Il tema del mio contributo è vasto e nello spazio a disposizione potrò solo presentare alcuni percorsi di indagine che iniziano a delinearsi sulla base dei lavori degli ultimi anni. Per sottolineare il carattere del tutto preliminare di questa ricognizione vorrei mettere in chiaro un'avvertenza, e cioè il fatto che in questo campo di studi siamo appena al principio del principio, per citare una frase dell'amico Ester Gord. Questo per due ordini di motivi. Per l'epoca romana, infatti, non disponiamo ancora di studi di base simili, per esempio, a quelli dedicati da Vincent Brinkmann all'arte greca dell'età arcaica e della prima età classica. Inoltre, la durata, l'estensione geografica e la varietà culturale che si riscontrano nell'esperienza artistica di età tardo-repubblicana e imperiale scoraggia fin dall'inizio qualsiasi facile generalizzazione. Cercherò ora di mostrare con alcuni esempi questa grande varietà che si incontra nel modo di utilizzare il colore. Una prima macroscopica evidenza era ben percepibile nella mostra di qualche anno fa sulla policromia antica, che ha avuto varie edizioni europee, in Germania come Bunte Götter ed è ancora aperta a Francoforte, in Italia come I colori del bianco. Alludo alla resa dell'incarnato che è stata oggetto di appassionate discussioni durante la realizzazione delle ricostruzioni esposte in mostra. Per sintetizzare con due immagini la questione, si possono mettere a confronto la ricostruzione dell'Augusto di Prima Porta e quella del Caligola di Copenhagen. Nel primo caso, le analisi e gli esami di laboratorio mi hanno indotto a ritenere che il colore fosse stato utilizzato sulle vesti, sui capelli e sulle decorazioni della corazza, ma non sulla pelle e sul fondo della corazza stessa, lasciati entrambi del colore del marmo. Nel secondo caso, invece, tracce indubitabili di incarnato sul lato sinistro del collo, hanno spinto Östergaard e Brinkmann a ricostruire il ritratto con una coloritura completa e coprente, estesa dunque anche alla pelle del volto. Sia la ricostruzione dell'Augusto che quella del Caligola possono ovviamente essere discusse e perfezionate in molti dettagli. Ma, a questo stadio della ricerca, possiamo semplificare il discorso dicendo che esse rappresentano due diverse tendenze degli artisti antichi. Da un lato, quella di un utilizzo del colore su tutta la superficie e secondo un criterio per così dire naturalistico, almeno nelle intenzioni. È il caso del Caligola. Dall'altro, abbiamo invece la tendenza a un uso parziale e non pienamente realistico del colore. È il caso dell'Augusto. In questa statua sembra che la necessità di trasmettere chiaramente alcuni messaggi ideali e politici comporti un uso del colore che privilegia le esigenze della comunicazione su quelle del realismo. Voglio dire semplicemente che un stile realistico avrebbe previsto il volto colorato di rosa, diciamo così, e la corazza colorata di blu per il bronzo o di giallo per l'oro. Invece la necessità di sottolineare il rilievo che si trova sulla corazza ha fatto preferire un fondo chiaro colore del marmo. A ciascuna di queste due opere che ho assunto qui come esemplificative possono essere accostati altri esempi. Accanto all'Augusto ricorderò solo la statua di Eumachia da Pompei, a sinistra, e la Livia, a destra, della Villa dei Misteri, sempre da Pompei, che purtroppo presento in una foto in bianco e nero perché ancora non è stata mai pubblicata a colori. Il loro buono stato di conservazione al momento del rinvenimento dà una certa fiducia che l'aspetto antico non differisse radicalmente dall'attuale, cioè che non ci siano perdite troppo drastiche e drammatiche di colore. Ma naturalmente saranno opportune analisi accurate che verifichino questo apprezzamento macroscopico. Da Ercolano proviene inoltre la testa di amazzone fresca di scavo, in ottimo stato di conservazione, che conserva tracce di una polochromia estremamente semplificata, basata su un paio di toni di rosso che evidenzia i capelli e gli occhi, ma senza alcuna traccia di colore sulla pelle. Sempre nell'ambito di questa tendenza coloristica si possono ricordare alcune evidenze indirette. La prima è la statua di Marte affrescata a Pompei nella casa della Venere Marina, dove la pelle è dipinta di bianco a imitazione del marmo, mentre sono colorati il manto e l'elmo. Si possono ricordare ancora le statue di marmi policromi dove le parti nude venivano realizzate in marmo bianco. Ricordo solo la menade dalle terme di Caracalla nella collezione farnese, adesso a Napoli, e la matidia da sessa aurunca. In questo caso si deve osservare che poi la situazione è un pochino più complessa, cioè probabilmente esisteva anche la possibilità di colore sulle parti bianche. Questo lo sappiamo perché, per esempio, sono state recentemente riconosciute tracce di colore, per il momento solo limitate ai capelli, sulle teste in marmo bianco delle statue di personaggi orientali, o scusatemi, dei personaggi orientali che decoravano la Basilica Emilia e si trovavano all'esterno. Ecco, anche lì corpo in marmo frigio colorato, teste bianche ma con tracce di colore. Accanto alla Caligola, invece, come esempi di coloritura della pelle, possiamo porre il ritratto di Gaio Cesare del Museo di Kassel, che appunto conserva tracce di colore nell'orecchio. e esistono poi casi più antichi, perché è una tradizione greca, quella della coloritura integrale, e quindi se ne possono citare diversi esempi. In estrema sintesi, ecco, avevo sbagliato a mettere l'immagine, questa è la ricostruzione della Basilica Emilia con le statue orientali sulla facciata, che appunto avevano marmo frigio per il corpo, marmo bianco, ma con tracce di colore per le mani e la testa. Prendiamo ora, dunque, quindi in estrema sintesi, scusate, al di là delle questioni di dettaglio, troviamo due modi molto differenti di utilizzare il colore per i ritratti, nonostante il fatto che, nel caso dell'Augusto di prima Porta e del Caligola di Copenaghen, le due sculture siano vicine cronologicamente e mostrino un livello esecutivo di qualità paragonabile. Prendiamo ora un altro aspetto, quello della doratura. Studi recentissimi e di grande interesse compiuti da Brigitte Bourgeois e Philippe Joquet hanno affrontato un ambito culturale ben delimitato per cronologia e per ampiezza geogratica, la scultura di Delo del medio-ellenismo. I colleghi francesi hanno distinto fondamentalmente tre tipi di utilizzo. Il primo tipo è la doratura integrale, che è emersa dall'analisi di statue notissime, come quella del diadumeno, qui a sinistra, dalla casa omonima e del galata ferito dalla Gorades Italien. A prima vista queste notissime statue sembrerebbero di marmo immacolato, ma un esame attento con videomicroscopio ha trovato tracce sicure di doratura diffuse su tutta la superficie, che permettono di ricostruire quindi una doratura totale a bolo, estesa, nel caso del diadumeno, anche al tronchetto e al manto, forse con l'eccezione, nel caso del galata, dei capelli e dei peli pubici, che presentavano lievi tracce di colore rosso. Il secondo tipo, è identificato dai colleghi francesi, è la doratura che chiamano di complemento, costituita da ritocchi che disegnano, per esempio, delle trame su tessuti in associazione ad altri toni di colore. Si possono citare la piccola Ercolanese del Museo Nazionale di Atene, la statua di Apollo Citaredo e la tiche della Casa delle Cinque Statue, l'Afrodite e l'Erma di Hermes dalla Casa Omonima. In quest'ultimo caso, la doratura interessa la capigliatura e la barba, connotando il personaggio come divino. Il terzo tipo è quello della doratura mista, o crisocromia, come l'hanno chiamato con grecismo i colleghi francesi, dove la pelle viene integralmente dorata, mentre le vesti sono dipinte. Tra gli esempi si possono citare la statua maschile, forse un Apollo, della Casa delle Maschere e la testa di Anubis. È evidente che ci troviamo, anche in questo caso, di fronte a una varietà di soluzioni eclatante, pur in un contesto estremamente omogeneo che, almeno in base alle concezioni correnti, avrebbe suggerito forse un quadro diverso. Al tempo stesso vengono spontanei confronti con periodi più avanzati e ambiti particolari. Per esempio, al tipo della doratura mista, potrebbero essere ascritti alcuni rilievi mitriaci, come quello del Museo Nazionale Romano. Ma torniamo a una visione d'insieme. La lezione che ci viene dai due esempi appena visti, quello dell'incarnato e quello della doratura, deve ispirarci la più grande prudenza nel tentare generalizzazioni, quando ancora le basi analitiche a disposizione sono terribilmente ristrette e casuali. Se vogliamo rimanere nel campo del rapporto tra colore e doratura, possiamo facilmente trovare, in periodi più tardi, esempi di soluzioni ancora diverse. Citerò un paio di lavori recenti condotti in stretta collaborazione con il collega Santa Maria, che appunto dirige il laboratorio del gabinetto di ricerche scientifiche dei Musei Vaticani. Il primo esempio è un sarcofago con scene pastorali del 300 circa dopo Cristo, che presenta uno stato di conservazione piuttosto eccezionale. Si è potuta recuperare, infatti, in maniera quasi integrale, la doratura eseguita a bolo, che costituisce l'ultima fase della decorazione, in quanto sono presenti anche altri tre colori, giallo, rosso e azzurro. L'oro serve a illuminare i capelli e la barba dei personaggi, il pelame delle pecore e dei corti mantelli dei pastori, alcune linee delle vesti o del parapetasma, il panneggio dietro l'orante, e qualche stelo della vegetazione. Potremmo forse avvicinare l'esempio al secondo tipo di bourgeois e joquet, se non fosse per il fatto che sia il colore che l'oro lasciano ampiamente scoperto il fondo color marmo, che costituisce dunque il colore dominante. Sul problema dello sfondo avrò modo di tornare più avanti, suggerendo un quadro più ampio. Questa tecnica trova diversi confronti. Si potrebbe citare, ad esempio, un sarcofago della New Carlsberg Lyptotech di Copenhagen, in cui la duratura è utilizzata in modo simile per evidenziare il pelame e il piumaggio degli animali, nonché barbe e capelli delle figure umane. In questo esemplare, però, non si osservano altre tracce di colore, mentre una tecnica più simile a quella del sarcofago vaticano si trova in un'opera famosa e pressoché contemporanea al nostro sarcofago, la cosiddetta lastra policroma del Museo Nazionale Romano, l'astra che sarei tentato di attribuire alla stessa bottega pittorica. Per la scultura il problema è un po' diverso. Scendendo ancora nel tempo troviamo esempi di sculture che utilizzano una varietà di tecniche ancora maggiore. Penso al ritratto conservato a San Giovanni in Laterano, nel Museo della Basilica, che raffigura verosimilmente l'imperatrice bizantina Arianna, morta nel 515. Siamo all'epoca, per intendersi, di Teodorico. Il busto ovviamente non è pertinente, è solo la testa. In questa testa le analisi non hanno riscontrato tracce di colore ma credo che possiamo ipotizzarle con buona verosimiglianza. Invece sulla corona si conservano resti ben visibili di una sostanza rosa-violacea che è risultata essere un bolo e sulla quale aderiscono ancora particelle della duratura originale. Si vede molto bene qui le numerose tracce di questo colore rosato. Negli occhi le pupille sono realizzate mediante l'inserzione di due dischetti di pietra nera, probabilmente ardesia, che conferiscono una particolare vivacità allo sguardo. Infine, nella corona sono scolpiti dei castoni che dovevano alloggiare pietre preziose o meglio loro imitazioni. Un calco del laboratorio di restauro dei Musei Vaticani ci propone una possibile ricostruzione in cui la duratura è stata eseguita con la tecnica originale. Sono state poi integrate le pietre della corona e ci si è permessi, come unica libertà, di colorare le labbra che per le quali non abbiamo evidenza materiale, ma che sembra difficile pensare che rimanessero acrome. Si ricostruisce in questa maniera un'immagine che non è troppo lontana dal famoso mosaico dell'imperatrice Teodora nella Basilica di San Vitale a Ravenna, di poco posteriore, al quale ci si è ispirati anche per il colore delle pietre della corona. Vorrei affrontare ora un tema più specifico e accennare ad alcuni dei risultati che possiamo attenderci dalle indagini relative alla tecnica dei pittori antichi. Iniziamo dai pigmenti. Di norma le indagini svolte in passato avevano identificato una serie di pigmenti inorganici, ocre, blu egiziano, ematite, cinabro, minio, bianco di piombo, eccetera. Solo da pochi anni invece ci si sta rendendo conto della grande importanza che i colori organici dovevano avere nella tavolozza dell'artista antico. Rossi organici derivati dalla radice di una pianta, la robbia, oggi viene chiamata in Italia lacca di garanza, derivati anche dalla cocciniglia, questo piccolo insetto, o dal kermes, sono stati individuati con frequenza sempre maggiore grazie all'impiego della fluorescenza ultravioletta, nonché grazie alla maggiore accessibilità delle tecniche di analisi per i materiali organici. Ecco, questa è una foto a luce ultravioletta che mostra questa fluorescenza gialla, caratteristica del colore organico, su una lastra dell'aula del Colosso del Foro di Augusto, ne parleremo fra poco, che a occhio nudo non mostrava tracce di colore. Che la lacca organica fosse stata utilizzata dai pittori antichi era cosa nota soprattutto per affreschi e terracotte. Campioni di lacca di robbia, per esempio, erano stati identificati già nel 1951 tra i resti di una bottega di Corinto distrutta da Lucio Mummio durante la conquista della città nel 146 avanti Cristo. Tuttavia, per quel che riguarda la pittura su pietra, una lacca organica era stata identificata per la prima volta solo da Folkmar von Greve negli anni ottanta del secolo appena passato su una stele ellenistica della Tessaglia. Più o meno negli stessi anni si possono citare le tracce rinvenute a Delo da François Queirel e dal suo gruppo sui ritratti, nonché la lacca trovata da Adiel Wallert su un bacino greco del primo ellenismo già conservato al Getty Museum di Malibu e ora restituito all'Italia. In anni più recenti Brigitte Bourgeois e Philippe Gioquet, che ho già citato, hanno individuato lo stesso tipo di lacca su un gruppo di sculture ideali di Delo. Vedete la fluorescenza ultravioletta come evidenzia le tracce di lacca organica. Negli studi preparatori della mostra I colori del bianco si è identificata lacca rossa sul manto e sui rilievi della corazza dell'Augusto di Prima Porta. Anche qui se vedete queste fluorescenze arancioni sono tracce chiarissime di colore organico. È stata rinvenuta ancora lacca sulle lastre di rivestimento della parete di fondo dell'Aula del Colosso nel Foro di Augusto a Roma, sulle labbra del Caligola di Copenaghen, sul sarcofago di Alessandro a Istanbul. Una ricca raccolta di dati su coloranti organici è stata anticipata nel convegno che si è tenuto a Viterbo nel 2007 da Pietro Baraldi dell'Università di Modena Reggio Emilia, il quale utilizza la tecnica Microraman, particolarmente indicata a questo scopo. Si iniziano ora a identificare anche pigmenti organici più rari. Analisi ancora inedite compiute sulle statue dell'Augusteum di Narona, in Croazia, hanno permesso a Santa Maria, il collega con cui lavoro, di identificare la presenza di indaco su una statua femminile Giulio Claudia, dove è stato probabilmente aggiunto al rosso del manto per dare un tono violaceo più simile a quello della porpora. Sappiamo da Plinio che esistevano una serie di ricette per imitare con prodotti più economici la porpora. Anche la preziosissima porpora, vera e propria, è stata identificata in due sarcofagi prestigiosi sugli standardi del già citato sarcofago di Alessandro, studiato da Brinkman e in quantità assai maggiore, sul sarcofago delle Amazzoni del Museo Nazionale Archeologico di Firenze, databili al IV secolo avanti Cristo e proveniente da una tomba etrusca di Tarquinia, che è stato indagato dall'equip diretta da Angelo Bottini. È evidente che in questi casi il prezioso colorante è un ulteriore indice dell'altissimo livello della committenza dei due sarcofagi. Ecco, qui vedete sulla fronte questo viola rosa, è tutto dovuto alla porpora. Queste acquisizioni hanno importanza anche per il proseguimento della ricerca. Infatti, come avevo accennato precedentemente, una volta presa coscienza del frequente uso dei colori organici, è possibile riconoscerli in maniera semplice mediante una lampada a luce ultravioletta, poiché danno una fluorescenza inconfondibile. Se passiamo al problema dei leganti e del modo in cui venivano stesi i colori, abbiamo qualche prima evidenza dai prelievi già citati, quelli sulle lastre dell'aula del Colosso. Qui, per la lacca rossa, è stato utilizzato come legante la caseina, quindi un derivato del latte, o meglio il caseato di calcio. Mentre dove compare solo il blu egiziano non si hanno tracce di legante organico, ma solo una matrice di carbonato di calcio, quindi solo acqua di calce o latte di calce. Questo si spiega probabilmente con il fatto che la lacca è un colore più delicato che tende a virare in presenza di latte di calcio fortemente basico e richiede un legante che valorizzi la trasparenza del pigmento, come avviene appunto con la caseina. I coloranti organici hanno questo vantaggio di una maggiore delicatezza e trasparenza del colore. Il blu egiziano invece è più stabile ed è totalmente coprente, quindi può essere utilizzato con un legante un po' più aggressivo, appunto, il latte di calce. È interessante notare inoltre come sotto alla lacca rossa si sia trovato uno strato di ocra gialla che forse serviva a conferire alla lacca un tono più caldo e luminoso, mentre ancora al di sotto, a diretto contatto con il marmo, è stata identificata una preparazione di biacca, carbonato basico di piombo, sulla quale erano tracce anche di nero di vite, cioè i resti di un disegno preliminare. La preparazione bianca tuttavia probabilmente non copriva tutta la superficie del marmo, poiché in un caso la lacca era a diretto contatto con la pietra. Dunque sembra di riconoscere una tecnica piuttosto raffinata che diversifica preparazione elegante a seconda dei colori finali utilizzati e, nel caso più elaborato, sovrappone progressivamente tre strati a partire dal basso, biacca, ocra gialla, lacca rossa, per ottenere l'effetto desiderato. Tale tecnica, che qui raggiunge livelli di particolare raffinatezza, aveva una lunga tradizione alle spalle, perché, riferendoci anche a pittura non sulla pietra, ma a fresco, già nella tomba terza del tumulo A di Aineia in Macedonia, databile verso il 330-320 avanti Cristo, è attestato uno strato di ocra gialla come preparazione per uno di cinabro. Mentre nell'anticamera della tomba delle palmette all'Efcadia, il bianco di piombo serve di preparazione a uno di lacca organica, probabilmente lacca di robbia. Una preparazione simile, ma che utilizza la cerussite, cioè carbonato neutro di piombo, invece della biacca, carbonato basico di piombo, è stata trovata anche sul sarcofago delle Amazzoni. Possiamo ricordare qualche ulteriore esempio in cui si può riconoscere uno o più strati di preparazione. Nel caso già ricordato del Caligola di Copenaghen, le tracce di colore della pelle si trovano su una superficie sul lato sinistro del collo, non perfettamente lisciata, ma preparata con uno strato bianco. Nel Museo di Tarragona si trovano alcune sculture interessanti, che a fine settimana andrò a controllare ulteriormente, e che avranno appunto bisogno di qualche approfondimento. Già a un primo esame, tuttavia, si possono osservare ampie tracce di colore rosso su una statua maschile togata, databile al primo secolo dopo Cristo, che in più punti si sovrappone a quello che sembra essere uno scialbo di calce. Qui si vede abbastanza bene, anche in una brutta foto fatta un po' fortunosamente. Mentre una statua con corazza, nello stesso museo, il colore rosso, qui purtroppo si vede meno bene, il colore rosso sulle frange delle Pteriges serve di base al blu egiziano, di cui sono visibili a occhio nudo, chiaramente, alcuni resti. Un tema che mi sembra utile sfiorare è quello relativo alla possibilità di trovare restauri della pellicola pittorica. Così come sappiamo che le statue venivano restaurate, Cristiane Forster ce ne ha parlato, veniva restaurato evidentemente anche il colore delle statue. Durante le ricerche sull'Augusto di Prima Porta se ne è identificato almeno un paio di casi. in un campione tratto dalle frange della corazza dell'Augusto di Prima Porta si è trovato del giallo che si sovrappone al... ora il blu non può essere utilizzato per la sua struttura granulare come preparazione, mentre il giallo se fosse il contrario si potrebbe discutere. Quindi dobbiamo pensare a un restauro con un cambiamento di gusto, quindi dal blu, bronzo forse, al giallo, oro. Una specie di aggiornamento della cromia della statua. Se tali ritocchi possono essere collegati ai restauri sul marmo della scultura, che pure sono evidenti, allora dobbiamo collocare questo intervento in un'epoca relativamente tarda. La necessità di ritocchi più o meno estesi non dovrebbe stupire, ma se fosse necessaria una conferma, questa viene dall'esame condotto dai colleghi francesi su Terrecote di Delo, dove sono emersi diversi casi in cui la doratura o il colore erano stati ripresi o reintegrati in un secondo momento. Il mese scorso, in un altro convegno dedicato al colore, gli stessi colleghi francesi hanno mostrato ulteriori esempi di restauro di colore su pietra. Quindi è ormai una cosa sicura. Accenno a un ultimo tema, un tema diciamo di carattere tecnico-analitico, su cui i dati sono purtroppo ancora più scarsi. Alludo alla questione dei trattamenti superficiali in antico, su cui si è molto discusso, ma purtroppo ancora senza basi analitiche. Segnalo solo la scoperta sul sarcofago, con scene pastorali già citato, di una resina vegetale sovrapposta alla doratura, verosimilmente come protettivo e forse al fine di rendere più caldo il tono dell'oro. Alcune osservazioni di Fulvia Donati, una collega dell'Università di Pisa, sulla doratura di un'ornetta etrusca del Museo Guarnacci di Volterra, potrebbero presentare un confronto di grande interesse, ma il caso andrà verificato accuratamente mediante analisi mirate. Prima di proseguire, provo a trarre qualche parziale conclusione intermedia, diciamo così, più riguardante il metodo che il contenuto. Affrontando questo nuovo vasto campo di indagine, sulla base dei primi dati di cui disponiamo, si inizia a delineare un panorama estremamente vario che, almeno per il momento, come ho detto, impedisce di formulare regole di ampia portata. In altre parole, non dobbiamo cercare di identificare un modo tipico di utilizzare la policromia della scultura, ma piuttosto dovremo procedere tentando di aggregare gruppi di opere che mostrano un certo grado di omogeneità in alcune scelte di base e che rappresentano di conseguenza alcune delle possibili modalità secondo le quali gli scultori romani utilizzavano il colore. Potremo così elencare soluzioni differenti, anche molto differenti, ma che coesistono e si sovrappongono, non necessariamente sono relative a periodi diversi. Dato lo stadio iniziale della ricerca, inoltre, in molti casi non saremo ancora in grado di spiegare del tutto tali differenze, appunto, sulla base di cronologia, distribuzione geografica, livello di committenza o funzione. Questo è un passo ulteriore che richiede ulteriore lavoro. Non è facile prevedere fin d'ora dove ci condurrà questo tipo di ricerca, ma alcune possibilità sono già evidenti. È chiaro, per esempio, che il colore non era un accessorio, ma era un elemento costitutivo dell'opera. Questo con buona pace di Winkelmann, il quale non era tanto contrario al colore, ma diceva che il colore era superfluo nella scultura, quindi non diceva che era necessariamente brutto, ma non era adatto alla scultura. Invece gli antichi la pensavano diversamente. Senza il colore, o senza considerare la possibile presenza di colore, possiamo avere un impoverimento e un fraintendimento anche notevole delle opere e della cultura artistica antica, non solo dal punto di vista percettivo, ma anche propriamente da quello semantico, in quanto tutta una serie di importanti messaggi e connotazioni erano affidati a questo mezzo. In secondo luogo, il colore costituisce una quarta dimensione della scultura, che si aggiunge e ridetermina le tre dimensioni spaziali. Verosimilmente, questa dimensione poteva essere modificata e rielaborata dall'artista con maggiore libertà rispetto alle forme plastiche, per adattare l'opera al gusto dell'epoca, alle esigenze del committente e alla funzione dell'opera. Ciò potrebbe portare a una revisione importante degli schemi interpretativi più collaudati relativi al rapporto tra originali e copie. Cerco di essere più esplicito. Quando si studiano le copie romane tratte da originali greci, l'esame tipologico e stilistico è condotto esaminando le caratteristiche della forma tridimensionale. Su questa base giudichiamo se una copia è fedele o meno all'originale, se ne costituisce una variante, un adattamento o una libera reinterpretazione. Da questo punto di vista, un buon calco non è molto differente da una statua originale. Dovremmo invece tenere presente che mediante il colore l'artista antico poteva reinterpretare o adattare la scultura al contesto, nonché al gusto proprio del committente e dell'epoca. Questa dimensione era probabilmente quella che più facilmente cambiava, mutava. Infatti, mentre la forma di un'opera poteva essere copiata fedelmente sulla base di un calco, si pensi per esempio ai frammenti di calchi di sculture greche rinvenuti a Baia, era più difficile disporre di elementi fedeli per riprodurre la policromia originale. Non esistevano foto polaroid, macchine digitali, codice Mansell, ma probabilmente solo degli schizzi, disegni schematici con indicazioni del colore e ovviamente esisteva una tradizione iconografica per cui certe cose si facevano di un certo colore. Inoltre, quando si replicava in marmo un originale bronzeo, non si trattava, da questo punto di vista, di una copia meccanica, ma di una vera e propria traduzione in un linguaggio differente. Le possibilità del marmo erano infatti diverse da quelle del bronzo e una delle principali differenze era costituita proprio dal colore. È forse questo uno dei motivi che spiegano la predilezione dei romani per le statue di marmo. Quando la committenza era di alto livello, per esempio nel caso dell'imperatore, il maggior costo di una statua in bronzo non era un ostacolo insormontabile, ma forse la necessità di inserire un'opera in un contesto decorativo più ampio e in una architettura rendeva preferibile una statua colorata perché più esplicita o parlante, per così dire, di una di bronzo. Infine, non posso trascurare l'importanza di un approfondimento di questo temi dal punto di vista della tutela e della conservazione delle opere. Le tracce di colore non riconosciute possono infatti essere danneggiate o asportate da operazioni di scavo, di restauro o di manutenzione troppo affrettate. Se non verrà sviluppata una opportuna sensibilità, si potrebbe andare incontro a danni irreparabili e sicuramente nei vecchi restauri qualcosa si è perso. Mentre, al contrario, l'attenzione a questa dimensione, oltre a rinnovare le nostre idee, permetterà forse di avvicinare un pubblico più vasto alla comprensione della scultura antica. Come conseguenza di quanto ho appena esposto, si pone però anche un ulteriore tema che a me pare urgente e importante. Alludo alla formalizzazione dei risultati delle ricerche e delle analisi sul colore e la loro condivisione. Come tutti sappiamo, infatti, sono ancora pochi i casi in cui si disponga di esami analitici sufficientemente completi e, anche quando ciò avviene, non sempre i risultati sono editi in maniera completa. Sia chiaro che parlo innanzitutto per me stesso, poiché ancora sto lavorando all'edizione definitiva delle ricerche condotte in connessione con la mostra I colori del bianco nel 2003. Inoltre, spesso non basta pubblicare le tabelle con i risultati isolati. Per interpretare correttamente i dati, infatti, bisogna tener conto di una serie di elementi contestuali. Penso soprattutto alla stratigrafia dei campioni e all'esatto posizionamento sull'opera dei punti sottoposti a esame, nonché alla indicazione delle procedure analitiche adottate. In parole povere, se io faccio una certa domanda o una certa risposta, non è detto che riesca a vedere tutto. Quindi devo sapere esattamente le procedure e le analisi che sono state eseguite, perché non trovare, per esempio, pigmenti organici può essere dovuto al tipo di analisi che io ho fatto, è abbastanza evidente. Quando mancano queste informazioni si rischia di non poter andare oltre all'affermazione generica della presenza di un certo pigmento, senza però comprendere le scelte compiute dal pittore e senza poter confrontare realmente i risultati di analisi svolte da diversi ricercatori e differenti laboratori. Per proporre una possibile soluzione, sono molto cauto, si sta stipulando un accordo tra i Musei Vaticani, il Ministero Italiano per i beni e le attività culturali e l'Università di Pisa per utilizzare il programma SICAR. Questo programma è utilizzato per registrare e condividere online dati relativi a restauri. Attualmente sono per lo più restauri architettonici che vengono realizzati dalle soprintendenze statali italiane. Il sistema di registrazione dei dati è abbastanza complesso, ma anche molto versatile e può accogliere qualsiasi dato analitico, grafici, fotografie, relazioni, documenti d'archivio, rinvii ad altre banche dati e può essere utilizzato con interrogazioni incrociate. È necessaria però una messa a punto lo studio degli adattamenti che sono opportuni e una prima sperimentazione sono in corso da parte di una dottoranda di ricerca, la dottoressa Iliana Siotto, presso l'Università di Pisa, una ricerca diretta da Fulvia Donati e da chi vi parla, utilizzando come test le analisi compiute negli ultimi anni sulle opere dei Musei Vaticani. I dati e le immagini relative al programma SICAR sono appunto parte di questo lavoro. Se il tentativo avrà successo, la scheda così rielaborata potrà accogliere i dati provenienti dai restauri di tutte le soprintendenze italiane, sia archeologiche che storico-artistiche e quindi anche opere medievali, rinascimentali, in quanto SICAR è il programma del Ministero italiano. Quindi si potrà iniziare a disporre di una banca dati un po' più seria di quella con cui lavoriamo adesso. Provo ora a dare qualche indicazione su un paio di ricerche in corso. Usciamo dall'aspetto più tecnico che forse vi ha un po' annoiato, vi chiedo scusa. La prima è quella sulla policromia dei sarcofagi e delle lastre di loculo. Ho già citato alcuni dei casi più interessanti, il restauro della cosiddetta lastra policroma del Museo Nazionale Romano, diretto da Marina Sapelli, e nei Musei Vaticani, quello diretto da chi vi parla, di un sarcofago con scene pastorali, dalla tecnica assai simili. Come ho già spiegato, essa consiste in un uso molto limitato e schematico di pochi colori, giallo, rosso, azzurro, applicati lasciando gran parte del fondo del colore del marmo e aggiungendo eventualmente tratti di doratura. Spinti da questi esempi, particolarmente ben conservati, stiamo estendendo le ricerche in maniera sistematica alle tracce di colore su altri sarcofagi della collezione vaticana. Il coperchio del sarcofago di Vera e di sua madre Aurelia Agrippina, scavato nel 2003 nella necropoli di Santa Rosa in Vaticano, ha la fortuna di avere conservato molto bene la policromia, perché rimase in uso per un tempo relativamente breve. E fu presto reimpiegato nel pavimento della tomba in cui si trovava, con la faccia decorata rivolta verso il basso. Anche in questo caso si nota l'uso semplificato a pochi tratti di giallo e rosso, secondo un gusto grafico che sottolinea i tratti essenziali del rilievo e definisce i dettagli che lo scultore non può o non vuole evidenziare altrimenti, come nel caso degli occhi dei mascheroni angolari. Al di fuori delle collezioni vaticane possiamo ricordare a Roma il sarcofago di Iulius Achilleus, purtroppo dispongo solo di una foto in bianco e nero, del Museo Nazionale Romano o la lastra di Loculo della catacomba di San Panfilo, mentre un gusto abbastanza simile ma con una tecnica più rozza è quello che ha prodotto il sarcofago di Adelfia, conservato al Museo Paolo Orsi di Siracusa, qui vi presento delle foto di dettaglio, dove abbiamo anche tracce scarsissime della duratura che ormai è tutta caduta praticamente. Questo sarcofago pone anche l'imbarazzante problema dei casi in cui la qualità della pittura sembra inferiore a quella della scultura che decora, talvolta con un contrasto assai stridente ai nostri occhi. Un altro frammento di sarcofago con scene pastorali del Museo Pio Cristiano in Vaticano mostra un uso del colore rosso secondo un gusto grafico quasi pedante, tanto da renderlo paragonabile a una rubricatura epigrafica. Per controllo sono state fatte anche analisi su alcune iscrizioni di recente rinvenimento nella necropoli vaticana di Santa Rosa, che mostrano ancora il colore assai ben conservato. Queste iscrizioni non presentano sostanziale differenza nella scelta del pigmento, in genere un'ocra rossa, evidentemente il colore più comune e più adatto per rafforzare la leggibilità sia di un testo inciso che di un rilievo figurato. Quest'uso semplificato del colore si deve, verosimilmente, alla condizione di penombra in cui si trovavano i sarcofagi nelle tombe. Tuttavia simili osservazioni non possono essere generalizzate in maniera meccanica, poiché conosciamo anche casi di sarcofagi in cui si conservano tracce di colore che viene stato dato, stato steso, in maniera estensiva per ampie superfici, come nel caso con scena di clemenzia del cortile ottagono dei musei vaticani o in un coperchio di sarcofago del museo più cristiano in Vaticano, che mostra ancora lievi tracce di azzurro, residui del colore di delfini, che dobbiamo immaginarci tutti colorati di azzurro, su un fondo forse simile con le onde del mare. Una seconda ricerca è in corso in questi mesi e posso presentare qui solo risultati ancora molto parziali e alcune riflessioni preliminari, che però mi pare abbiano un interesse più generale. Si tratta dell'indagine su un monumento simbolo dell'arte augustea, la Rapacis. In occasione del suo riallestimento, infatti, un gruppo interdisciplinare, formato da Stefano Borghini, Raffaele Carlani, Simone Foresta, Eugenio Larocca, Orietta Rossini e Alessandro Viscogliosi, ha proposto una ipotetica ricostruzione dell'aspetto policromo del monumento sulla base dei confronti con pitture a fresco di epoca appunto romana. Per la ricostruzione del freggio vegetale ci si è basati sull'analisi botanica condotta da Giulia Caneva della Terza Università di Roma. L'ipotesi è stata tradotta in un'immagine digitale che può essere proiettata direttamente sul monumento per valutare l'effetto d'insieme e che è stata presentata al pubblico in via sperimentale pochi giorni fa. Più recentemente è iniziato l'esame diretto sia delle superfici del monumento che dei frammenti non inseriti nella ricostruzione del monumento degli anni 30, nel secolo scorso, frammenti che sono conservati nei magazzini e che per inciso sono stati meno spesso puliti, quindi sono più preziosi per noi. Tal'esame è stato condotto sotto la direzione del collega Santa Maria. La ricognizione non è terminata e, come era prevedibile a causa della lunga storia del monumento, non si sono conservate che tracce molto esili di policromia, però poche ma ci sono. La superficie del marmo, illuminata con luce ultravioletta, emette fluorescenze giallo chiaro che possono verosimilmente essere interpretate come tracce di leganti organici per il fissaggio dei colori. Mediante fluorescenza a raggi X sono state identificate tracce che fanno pensare alla presenza di cinabro e minio. Sul cornamento della guancia d'altare destra si vedono a occhi dell'ara vera e propria, si vedono a occhio nudo dei fili di colore rosso sulla modanatura della voluta. Su invece alcuni frammenti in magazzino sono stati identificati pigmenti rossi, mentre un frammento che faceva parte del fregio principale con la processione, un pezzo della cornice inferiore con un piede, ha restituito un piccolo resto di blu egiziano. Anche altri frammenti di cornici hanno conservato resti di blu e elementi del fregio vegetale esterno qualche residuo di verde. L'esame delle superfici non è ancora terminato, si dovranno esaminare per esempio le lastre della faccia interna del recinto, quelle con bucrani e ghirlande. Il Moretti, che ha restaurato Lara negli anni 30, aveva osservato e anche esaminato con un chimico, aveva osservato sulle patere, qui, tracce di doratura sovrapposte a una preparazione di colore rosso. Al termine della mappatura di queste tracce potremo forse ricavare qualche indizio utile per la ricostruzione della policromia, ma già ora queste osservazioni hanno una certa importanza. Esse confermano infatti un'idea che invece la mentalità più diffusa, almeno a livello di grande pubblico, fatica ancora ad accettare, e cioè non solo che un monumento che siamo soliti associare al candore classicista era vivacemente colorato, ma anche che il colore era impiegato su monumenti all'aria aperta, cioè esposti alle intemperie, e non solo, per fare un esempio, su statue collocate al coperto in un portico. La presenza del colore su innumerevoli freggi e frontoni di templi greci aveva d'altronde già chiarito che l'aggressività delle intemperie in età antica non era paragonabile con quella che purtroppo registriamo oggi nelle condizioni di inquinamento moderno. Inoltre, benché siano necessari studi appositi per ottenere dati oggettivi, possiamo ritenere che i leganti organici antichi fossero più resistenti di quanto normalmente si crede. A ulteriore conferma si pensi, ad esempio, alle tracce di policromia che vi ho già citato, per esempio, sulle statue degli orientali nella Basilica Emilia al Foro Romano, che erano stati esposti per secoli all'aria aperta. A partire da questi risultati, inoltre, andranno affrontati una serie di problemi che hanno una grande rilevanza storico-artistica. Al di là della ricostruzione puntuale dei dettagli policromi dell'Arapacis, che sono ormai irrimediabilmente perduti, sarebbe già un notevole risultato riuscire a comprendere almeno quale fosse il colore del fondo dei rilievi, che doveva avere un impatto visivo di grande importanza e condizionava fortemente la comprensione dell'opera. A questo proposito, il gruppo di lavoro interdisciplinare sopracitato ha proposto una ricostruzione del fondo del fregio vegetale di colore blu, mentre per i pannelli superiori occidentali, quelli con il sacrificio di Enea e con Romolo e Remo, allattati dalla lupa, ha ipotizzato un fondo molto chiaro, colore del cielo. Si deve ancora affrontare il problema dello sfondo della processione sui lati lunghi e sarà probabilmente necessario tentare anche più di una ipotesi. Si può tuttavia accennare almeno ad alcune delle implicazioni che queste scelte comportano. L'influenza dei modelli greci, infatti, non si sarà limitata solo allo stile dei rilievi nella loro dimensione plastica, ma andrà discussa anche la loro influenza nell'ambito delle scelte cromatiche. Nei rilievi di età classica lo sfondo canonico si ritiene sia quello di colore blu scuro, documentato tanto nei rilievi funerari come in quelli votivi nelle stele iscritte con decreti, così come nei frontoni e nei rilievi architettonici. A partire dall'età ellenistica, invece, il quadro è più complesso e articolato. Accanto a sfondi blu e neri si trovano anche sfondi di diverso colore e, in particolare, di tonalità chiare. Questa ricostruzione abbastanza lineare tuttavia è stata recentemente messa in dubbio e si è invece avanzata l'ipotesi che lo sfondo chiaro appaia già almeno dall'età classica, per esempio sulle metope del partenone. Indipendentemente dalla discussione sul partenone, che può essere giusta o sbagliata, è necessario però proporre una ricostruzione diversa e maggiormente articolata, dove la scelta del colore dello sfondo è legata alla funzione del rilievo o dell'immagine. Le metope scandite dai triglifi blu del partenone hanno in effetti un migliore risalto su uno sfondo bianco, mentre, d'altra parte, è in dubbio che il blu veniva regolarmente impiegato per freggi e frontoni. Una simile ripartizione risulta valida anche per le tombe macedoni. Qui, infatti, i freggi e i frontoni continuano regolarmente la tradizione del fondo blu. Si pensi alla tomba terza di Agios Athanasios, a quelle del giudizio, delle palmette. Vedete sempre i freggi e i frontoni col fondo blu. Appunto, le tombe del giudizio e delle palmette all'Efcadia, alla tomba di Foinicas, fondo blu, e qui le metope invece chiare, vedete. Ma anche al frontone interno della camera superiore della tomba C di Via dei Cristallini a Napoli, il frontone è qui, che ha un fondo nero-bluastro. Ecco, vedete. Quando, d'altra parte, nelle stesse tombe compaiono metope, il loro sfondo è invariabilmente bianco, l'abbiamo visto. Lo stesso sfondo chiaro compare ugualmente nei pannelli che hanno chiaramente, che hanno, scusate, carattere più fortemente narrativo e che non possiedono una funzione architettonica canonizzata dalla tradizione, come per esempio sulla facciata della tomba della caccia a Verghina. Sarà necessario approfondire ulteriormente questa che è solo un'ipotesi di lavoro, voglio sottolineare, e questo bisognerà farlo seguendo anche l'evoluzione di queste convenzioni cromatiche sul lungo periodo. Bisogna cercare di capire il codice di base. Si potrebbe infatti interpretare come persistenza degli sfondi scuri dei fregi e dei frontoni il caso già ricordato della parete di fondo dell'Aula del Colosso, con il suo panneggio prevalentemente blu. Qui è un colore azzurro un po' troppo chiaro, se guardiamo i resti al microscopio vediamo che è un colore blu piuttosto scuro. Questo panneggio blu appunto su cui spiccava la statua colossale del genio di Augusto, in scala più ridotta possiamo citare anche il fondo blu di un clipeo adrianeo del cortile ottagono dei Musei Vaticani che ho restaurato e ha tracce di fondo blu. Poi per quanto riguarda i chimapia e in generale i freggi vegetali, pensiamo appunto al freggio vegetale dell'Arapacis, la tradizione dello sfondo blu o nero sembra assai vincolante. Si pensi sempre nelle tombe macedoni, alla cornice tra il freggio e l'emetope della tomba del giudizio all'Efcadia, al freggio interno sia nella tomba seconda del tumulo A di Aineia che nella tomba B di Corinos. O infine a Berghina, al freggio sul muro di fondo della tomba di Euridice e al freggio della facciata della tomba Romaios. La stessa tradizione è d'altronde attestata anche sulle lequitoi funerarie, come quella del Museo del Ceramico o quella della New Carlsberg Liptotech di Copenhagen. Lo stesso sfondo ricorre anche nelle stelle funerarie e sui coronamenti vegetali, presento qui ad esempio quello della stelle di Diogene del Museo del Pireo. È probabilmente una tradizione che sopravvive fino alla fine dell'antichità, se si pensa ai mosaici paleocristiani. Per quanto riguarda l'altro filone, potremmo collegare alla tradizione degli sfondi chiari, più adatti al gusto pittorico e narrativo di tradizione ellenistica, il fondo bianco della battaglia del sarcofago di Alessandro, fino ad arrivare ai sarcofagi tardo-romani con scene pastorali visti poco fa. Se volessimo azzardare una ipotesi di lavoro, potremmo pensare che la differenza di sfondo, almeno nel contesto romano che qui stiamo discutendo, potesse corrispondere a una differenza di funzioni. Il fondo blu sembrerebbe conferire ai rilievi una funzione rappresentativa e possedere una connotazione classica, tra virgolette, e dunque monumentale, autorevole, ufficiale. D'altra parte, un fondo chiaro, come per esempio è quello che è stato proposto per i pannelli mitologici occidentali dell'Arapacis, sembrerebbe porre l'accento piuttosto sugli aspetti narrativi di tradizione ellenistica e quindi intonarsi con le narrazioni mitiche. In altre parole, la differenza dei colori nello sfondo andrebbe interpretata come elemento stilistico legato a specifici generi figurativi e ci ritroveremmo, anche per questa via, a ricostruire quel sistema semantico dell'arte romana che Hülscher ha delineato in maniera sistematica per quel che riguarda la scultura. Queste considerazioni confermano dunque l'ipotesi di un fondo blu per il freggio vegetale che avvolge il recinto esterno dell'Arapacis, ma spingerebbero a ipotizzare uno sfondo blu anche per il freggio con la processione, colore che in tal caso si intonerebbe con il carattere ufficiale e rappresentativo della scena. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie